Studio del graduale responsorio di Natale, Viderunt Omnes, intonazione da Mi Bemolle. 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 Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. Cantate con giubilo a Dio, terra tutta, il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza davanti ai popoli che ha rivelato la sua giustizia. Intonazione da Mi Bemolle. Viderunt Omnes, 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 intonazione da Mi Bemolle. Visogna studiare molto. Buon studiato. Grazie a tutti.